io sono in fisioterapia italia dall'inizio quindi credo almeno cinque anni sono stato forse uno dei primi a entrare nel network di fisioterapia italiana da quando sono entrato in fisioterapia italia sono cambiate tante cose il fatturato è migliorato in maniera importante adesso non parlo della percentuale esatta ma veramente tanto e questo è migliorato grazie al cambio di mentalità che c'è stato e quindi la mentalità che ho acquisito attraverso i corsi le zoom e tutte le comunicazioni continue che ci sono con luca e daniel mi ha permesso di fare un cambio di mentalità che ha aumentato il fatturato e la gestione dello studio è migliorata tantissimo dovendo dare un consiglio a un giovane rivedo un pochettino quelle che possono essere state le mie esigenze di cinque anni fa o di dieci anni fa tutti in una fase iniziale partono pensando solo alle abilità tecniche e fare corsi che siano formativi dal punto di vista manuale macchinari o altre cose e spesso viene sottovalutata la parte comunicativa che è la parte più importante la parità di macchinari uno studio può essere vuoto o pieno dipende da come il titolare gestisce quella che la comunicazione col paziente e in questi corsi hai tutta una serie di skill che possono essere utilizzate immediatamente per far sì che sia il tuo lo studio con la fila fuori e non quello vuoto di fisioterapia italia a me fa venire in mente l'idea di stimolante coinvolgente non riesco a definire con un solo aggettivo il fatto di fare comunità con con altri colleghi